E' nata ed è stata presentata presso la sede della Comcommercio regionale Federeventi, l'associazione di rappresentanza del sistema fieristico degli eventi turistici e culturali della regione Umbria. L'iniziativa si è costituita con l'obiettivo di aggregare competenze, fornire strumenti ed essere al servizio di chi produce e realizza eventi. Nell'associazione potranno fare parte le imprese attive nell'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali in ambito fieristico e aziendale, nella convegnistica e più in generale nella fornitura di servizi per eventi. E' stato proprio il momento difficile che stanno vivendo imprese e detti dei settori fieristici e dei grandi eventi a spingere i soci fondatori alla creazione di un sistema permanente di tutela e sviluppo del comparto. L'obiettivo intanto è di mettersi insieme, confrontarsi. Le dimensioni sono diversi tra organizzatori, hanno la possibilità anche di unirsi per organizzare eventi contemporaneamente, possono concertarsi per non sovrapporre date ai sistemi naturalmente in Umbria, possono lavorare unendosi e in alcuni casi anche consortiandosi anche eventi che possono essere fuori dal territorio dell'Umbria e quindi vuol dire avere potenziato ognuno di loro per la possibilità naturalmente di confrontarsi e di lavorare. Poi la loro concorrenza, ma credo che la concorrenza faccia parte del mercato, perché poi ognuno organizza il proprio evento, ma sicuramente è un momento di confronto dove ci sarà sviluppo e crescita per tutti. Tra le finalità dell'anno e nata associazione, accanto alla rappresentanza degli interessi particolari delle imprese socie, la valorizzazione economica e sociale del settore, la promozione della qualificazione sociale degli associati, l'attivazione di servizi innovativi indirizzati all'impresa e la promozione delle relazioni con i rappresentanti istituzionali. L'Umbria in questo settore vuole giocare il ruolo da protagonista perché siamo universalmente riconosciuti come la terra degli eventi. Questo vuol dire che può esercitare una capacità attrattiva per eventi che vogliono venire fuori regione, anche a livello internazionale, ma vuol dire anche che i nostri borghi, le nostre città, i nostri comuni possono essere un palcoscenico ideale per mettere in mostra nuove e straordinarie esperienze legate all'attraentamento, legate all'approfondimento, in un contesto forse unico in Italia. L'intento è di promuovere l'istituzione di un centro di conoscenza, ricerca e sviluppo sul settore espositivo e la creazione di un centro informativo e di un osservatorio permanente di studio sul settore. Tra i compiti quelli di sviluppare servizi alle imprese, quali la formazione e l'aggiornamento di manager e addetti, ma anche l'adozione di certificati e marchi. Saranno stipulate convenzioni e sarà introdotto un fondo di supporto allo sviluppo delle start-up.